Un match, quello tra Savignanese e Olda Meldola che vedeva di fronte due squadre che effettivamente sembravano un po' agli antipodi come condizione mentale, almeno fino a domenica scorsa, quando c'è la Savignanese, è tornata alla vittoria dopo una serie negativa di sette giornate senza successo e l'Olda Meldola che invece aveva perso, dunque il distacco tra le due squadre si era sicuramente ridotto. Una Savignanese che inizia bene il proprio match, ci prova De Filippo al primo minuto di gioco, poi al sedicesimo passa in vantaggio la Savignanese con questa grande conclusione di Casoli che sfrutta al meglio l'assist di Dormi. 1-0 per la Savignanese e possiamo riapprezzarla nel replay, davvero perfetta scelta di tempo, nulla da fare per il portiere Ruffilli, Savignanese che addomestica il primo tempo, si arriva così. Al 41esimo c'è in attacco l'Olda Meldola che ci prova con questo colpo di testa sotto misura che non trova miglior fortuna, una conclusione sfortunata. Anche quella di Chiarini, un Olda Meldola che va vicino al pareggio sul finire della prima frazione di gioco, si ricomincia a giocare. Siamo al quarto minuto, Olda Meldola ovviamente che deve fare la partita, ci prova con questa conclusione di Valgimigli deviata in corner da parte di Pazzini. Sempre 1-0 per la Savignanese che si mette ancora in evidenza al 26esimo, conclusione secca, quella di Farnetti deviata in corner ancora da Ruffilli, ma proprio dalla bandierina la Savignanese può chiudere i conti. C'è questo cross al centro effettuato da Dormi, il colpo di testa vincente è quello di Farnetti e la Savignanese dunque si mette al riparo. Da possibili sorprese un 2-0 che vale anche come mazzata sul morale di un Olda Meldola che effettivamente stava faticando a cercare di bucare la difesa avversaria. Una Savignanese che conduce dunque in porto un importante successo e si rilancia nella sua rincorsa verso i playoff.